Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su Inscription. Oggi iniziamo il terzo atto e il gioco si rinnova completamente. Infatti entriamo nel mondo futuristico e pieno di bot, noto come Botopia, dove dovremo cercare di creare il masso perfetto per sconfiggere P03 una volta per tutte e scopriamo anche molti segreti nel frattempo. Buona visione! Signori, ho la vaga impressione che abbiamo ormai completato anche il secondo atto, non c'è nulla che ci resti da scoprire, abbiamo trovato diversi segreti, un paio di chiavi misteriose che non so effettivamente cosa possano aprire. E abbiamo già sconfitto tutti e quattro gli iscrivi, c'è qualcosa di strano effettivamente all'interno di questo bizzarro mondo virtuale, non ci resta quindi che affrontare la battaglia finale e per poi giungere al terzo atto, presumo che dovremo effettivamente ritornare dove tutto è iniziato un paio di episodi fa. Nel frattempo ho anche recuperato un paio di carte rare che si chiamano Fiere del Faraone. Quando viene sacrificata Fiere del Faraone vale tre di sangue invece di uno, quindi è un po' come la cara buona vecchia Capra Nera. Tuttavia la possiamo sacrificare all'infinito ed è la carta perfetta qualora volessimo utilizzare Uraiuli oltre ad Uroboro, sperando ovviamente che arrivi nei primi turni. Perfetto, incrociamo le dita e vediamo effettivamente cosa dobbiamo fare di bello. È giunto il momento sfidante, scegli lo scriba che vuoi sostituire. Ah, possiamo scegliere noi quindi. Devo dire che sono molto preoccupato dal comportamento di P03. Fra i quattro scribi sembra essere effettivamente quello più pericoloso e quello più malvagio. Vediamo quindi di sostituire lui in modo tale da rimuovere la minaccia maggiore. Vuoi sostituire P03 e diventare lo scriba della tecnologia. Beh, il Delon Gamer è molto tecnologico, santo cielo. Oh maronne, è diventato tutto molto inquietante. Ah, buon salve. Ehehehe, cogli... Scusate. Oh, hai scelto me sul serio? Grande. Posso saltare la parte in cui piagnucolano e si lamentano di me? Facciamola finita. Ho delle giocate importanti da fare. Cosa voleva fare? Ah, l'ultima battaglia sarebbe stata comunque con lui anche se avessimo scelto qualcun altro. Dovresti affrontare lo scriba che hai scelto, ma tipo una versione potenziata per il gran finale sarà diverso. Cosa hai in mente di fare? Allora, lui ha una carta automa che non ha nulla di che è uno di attacco e uno di vita. Oh, siamo anche fortunati. Tuttavia dobbiamo accumulare decisamente molte più ossa. Allora, facciamo una cosa del genere. Mettiamo lo scheletro e anche lo scavaspore che pian pianino ci permetterà di ottenere un po' di ossa. Che cosa buona e tanto giusta per adesso eviterei di correre dei rischi inutili. Anche se, anche se potremmo fare una cosa del genere. Mettiamo direttamente il dio delle mantidi che farà già tre di danno. Così ci avvantaggiamo molto rapidamente. Perfetto. Intanto lui mi ottiene un osso. Che succede? La lascerò qua. Cosa stai combinando? Devo rendere merito a quel draghista. Non è inutile come pensavo. Aspetta, il tizio che ha dragato le carte lo scorso episodio ha recuperato una carta glitchata. Oh maronne. Ehm... È proprio glitchata la descrizione? L'ha messa esattamente davanti al nostro dio delle mantidi. Potrebbe essere un big problemone per noi. Allora, nel frattempo vediamo di mettere qua uno scheletro. Così rendiamo inattivo il suo automa. Perfetto. E abbiamo le ossa che ci servivano. Ottimo. Nel frattempo abbiamo anche vinto la prima mano, diciamo. Intanto tu... Oh, 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 oh. Che sta accadendo? Buongiornissimo. Quello è il biglietto. Che sta... No. Ciccio. Stai glitchando l'intero gioco? Che poi accade? Vedo un bel po' di errori. Errore parte corrotta. Non dovevi giocare una carta corrotta. Che... Sta cambiando tutto. Sta diventando tutto molto 3D. Oh maronne. Oh no. P03 cosa ha intenzione di fare? L'avevano letto che Inscription non era un gioco normale e che si era corrotto direttamente dall'interno. Ma la mia boss battle, scusate. Volevo vincere la boss battle. L'ho vinta? Cos'è successo? Ha vinto lui? Ho fatto il suo gioco. Oh maronne. P03? Tutto bene ciccio? C'è qualquadra che non cosa? Oh no. Aspetta. È una mia impressione o P03? È tridimensionale adesso? Quindi il terzo atto è di nuovo tridimensionale. Sì. Che bello. Ammetto quella bidimensionalità fine anni 80, primi anni 90? Non mi aveva entusiasmato? Hai finito di startene lì come inebetito. Possiamo cominciare. Bene. Oh maronne. Che sta accadendo? Questa è Botopia. Un tempo grande paradiso tecnologico. Ora è governata da quattro Uberbot. Giusto? E tu devi andare a batterli. Perché? Per compiere la grande trascendenza. Ovvio. Non importa cosa significa. È quello che vuoi. D'accordo? Fatemi capire bene. Siamo come ritornati nel primo atto. E pertanto c'è la sottotrama. Oh. Vabbè ma siamo veramente come nel primo atto? Non posso alzarmi. Alzarti. No. No. Abbiamo una trascendenza da compiere. Mi ha letteralmente ammanettato il bastardo. C'è come l'icona di una chiave. Non so se effettivamente riuscirò a liberarmi. Quindi siamo ritornati diciamo nel mondo tridimensionale nel vero senso della parola. Oh mio dio. Infatti se premo verso l'alto ora posso di nuovo controllare le mie carte. Quindi potremmo definirlo forse un clone del primo atto. Questa volta abbiamo delle carte completamente differenti. Abbiamo il bot energetico. Oh è tornata la Wikipedia. Porta batteria. Quando viene giocata una carta che possiede questo sigillo conferisce una cellula di energia al suo proprietario. Quindi adesso non utilizzeremo più le ossa, i sacrifici e via dicendo. Ma semplicemente dell'energia per poterle schierare. Poi abbiamo Roboscudo che ha la nano armatura. Blocca l'attacco la prima volta che una carta che possiede questo sigillo sta per subire danni. Ah quindi nullifica completamente il primo attacco. Potrebbe essere un attacco da 30 e il primo lo bloccherà in ogni caso senza fargli subire danni. Poi abbiamo il Robo Cecchino. Uh molto interessante. Cecchino. Puoi selezionare quale spazio opposto viene colpito da una carta che possiede questo sigillo. Quindi scegliamo noi chi attaccare. Tuttavia fa uno di danno e verrà praticamente one shotato da qualunque nemico lo colpisca. Ed infine abbiamo il Mitragliere doppio che possiede il Colpo Biforcuto. Una carta che possiede questo sigillo attacca gli spazi a sinistra e a destra dello spazio che ha di fronte. Ah ma non direttamente di fronte. È un po' come la Carabona Vecchiamantide ma richiede praticamente tutta l'energia. Quindi il massimo sarà molto probabilmente 6. Se notate bene ci troviamo esattamente dove eravamo prima. Questi sono i 4 monumenti dei vari scrivi. Quindi siamo ancora su quella cocchio di isoletta. E io sono ancora un robot. Quindi aver cambiato la mia skin ha impattato effettivamente sul mio personaggio. O maronne. Un tempo Botopia era sicura per i viaggiatori. Ora i bot ribelli bloccano tutte le strade principali. Ah ok. Tutto molto interessante. Mi avete anche detto in questa modalità di controllare attorno alla mappa. Sembra che ci aspetti direttamente una battaglia. Yey. Ciccio mi spieghi un po' di cosine perché oh mio dio. Non sei abituata a vedere 5 colonne vero. Lesci non ci riuscirebbe mai. Ok quindi abbiamo l'indicatore dell'energia. E' tutto molto più tecnologico. Questa quindi è la nuova bilancia chiamiamola con l'indicatore sopra. Questo ci permette di passare il turno. Non so cosa siano questi. E qua poi dopo andranno probabilmente i vari oggetti. Ok possiamo vedere le carte. Certe cose sono rimaste praticamente invariate. Lui ha peraltro un minatore che possiede l'abilità scattante. Alla fine del turno del proprietario una carta che possiede questo sigillo si sposta nella direzione incisa sul sigillo. Ok datemi un secondo. Qui abbiamo un contenitore vuoto che non fa praticamente nulla. Abbiamo anche un bot energetico che ci permette quindi di aumentare eventualmente la quantità di energia. Che cosa buona. E' tanto giusta. Ok dobbiamo schierare il robo cecchino. Quanto prima. Per adesso allora mettiamo questo contenitore vuoto in modo tale da parare i danni del minatore. E sembra proprio che io debba passare il turno. Vai così. Perfetto. Oh marone sta schierando un sacco di carte. Tutto tanto tecnologico. Che facciamo se seleziono qui ci saranno i nuovi scoiatoli che sono. Ah i contenitori vuoti sono i nuovi scoiatoli quindi come potete vedere. Sono quindi delle carte che non fanno danno tuttavia hanno due di vita. Nel frattempo lui ha schierato un automa e un bot esplosivo. Detonatore. Quando una carta che possiede questo sigillo muore la creatura che ha di fronte e tutte le creature alleate nelle vicinanze subiscono 10 di danno. Oh. E' molto rischioso. Se lo giochi al centro e io lo distruggo farà praticamente danno anche alle carte alleate. E facciamo attenzione anche a questo automa perché ci può fare uno di danno all'occorrenza. Allora per adesso quindi mettiamo un bot energetico. Sì è l'unica cosa che possiamo fare. Lo mettiamo direttamente qui. E ci ha quindi aumentato di uno. Le celle massime di energia da quello che vedo. E per ridurre il danno casomai mettiamo un contenitore vuoto in modo tale da non farci attaccare da quel cocchi di automa. Sto ipotizzando gente perché non ne ho la più pallida idea. Ok. Nel frattempo direi di prendere un'altra carta normale. Ok e possiamo anche attaccare con il nostro robo cecchino. Allora lo possiamo mettere direttamente qua. Per adesso non toccherai nulla. Passiamo direttamente il turno. E con il robo cecchino posso scegliere chi attaccare. Però non posso attaccare presumo le carte che devono essere ancora schierate. Allora distruggerai il minatore. Oh che figata assurda. Mi piace proprio un sacco. Oh io 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 io. Anche loro mi hanno fatto un quantitativo considerevole di danni. Dobbiamo far esplodere quel bot esplosivo quanto prima. Mi domando se lo posso attaccare con robo cecchino. Allora. Vediamo per adesso di prendere un'altra carta. Il mitragliere doppio. Oh. Questo ci serve assolutamente. Pertanto. Per adesso metto semplicemente un contenitore vuoto qua davanti. Passo il turno in modo tale che con robo cecchino faccio fuori il bot esplosivo. Così far fuori l'insetto drone. Noi non subiamo danni. Che cosa buona. E tanto giusta. Ok. Molto bene. Prendimi un altro contenitore vuoto. Io ho notato solo adesso che abbiamo anche il martello che mi permette eventualmente di distruggere una carta. Ok. Ok. Sto imparando cose. Allora. Signor mitragliere doppio. Io lo schiererei direttamente qua. Perfetto. Non ci serve altro. Passiamo direttamente il turno in modo tale che lui attacca nelle due direzioni. E io posso eventualmente attaccare il robot saltellante. Non lo posso uccidere. Ma vabbè. Dettagli. Perfetto. Prendimi un'altra carta nel frattempo. Vediamo di passare il turno. Perfetto. Vediamo di far fuori quel maledetto robot saltellante. Ottimo. E adesso non ci riesce a far fuori. P03. E tanti saluti. Vai. Uno. Due. E attacca dove ti pare. Direttamente tre. E abbiamo vinto il primo scontro. I danni eccessivi peraltro ci danno anche delle monetine. Probabilmente c'è una valuta all'interno del gioco. Perfetto. Qual è la migliore difesa? Altri bot? Porti con te una scintilla che può riattivare i vecchi robot per aggiungerli al tuo mazzo. Sai, così combattono per te. Ah, tutto molto interessante. E qui cosa c'è? Vedete che ci sono effettivamente delle freccine strane. Allora, intanto vediamo di prendere quindi una nuova carta. Che sono praticamente dei floppy disk allungati. La robo sveglia, il bot energetico e un altro robo cecchino. Oddio, due robo cecchini potrebbero effettivamente cambiare le sorti della battaglia. Anche il bot energetico non mi dispiace. Che fa la robo sveglia? Irritante. La creatura di fronte ha una carta che possiede questo sigillo. Tiene uno di potenza. Vabbè, quella davanti? Quindi vuol dire che ha vantaggio al nemico. Ma è una cosa stupida. Senti, prendimi per adesso un altro cecchino che è cosa buona e tanto giusta. E se andiamo in questa direzione... Oh, forse ho scoperto una zona extra. O magari sto per morirci male male. Ho trovato una valuta! Perfetto, e abbiamo altri dollari. Yeeey! Ok, ora possiamo ritornare direttamente indietro. E procedere quindi in questa direzione. Madò, è stranissima sta modalità. Ok, non mi sembra che ci sia altro. Avanziamo. Ti serviranno più di un paio di robot riattivati. O almeno, se intendi davvero mettere in atto la grande trascendenza. In giro per Botopia ci sono alcuni degli oggetti OP migliori che si trovino. Oh, tutto molto interessante. Ed in effetti abbiamo trovato un contenitore abbastanza strano. Ricaricherà la tua energia per un turno. Niente male. Ah, quindi un consumabile che possiamo avere qui a lato. Se sei un tipo sveglio userai i tuoi oggetti in abbondanza. Li ripristinerai quando ti troverai una tappa. Ovvio. Ma per te è ovvio? Per me neanche troppo. Allora ci attende un ulteriore scontro purtroppo. Mi domando tuttavia cosa succeda qualora perdessimo uno scontro. Ripartiamo dall'inizio come nel primo atto. Oppure ci saranno dei checkpoint. Perderemo tutte le nostre carte. Questa è una bella domanda. Allora, per adesso passiamo alla prossima battaglia. Cosa poi hanno schierato qui sul tavolo? Un bot rotto? Oh, possiede l'abilità detonatore. Quindi se lui me lo attacca farà fuori la sua stessa carta. Ma anche le mie due carte adiacenti. Piccolo fetentone. Ma anche noi possiamo fare la stessa cosa. Lui ha schierato un robo scudo che gli permette quindi di proteggersi dal primo danno. Tuttavia il robo scudo può anche contraattaccare. Ah, che rottura di scatole. Abbiamo un robo cecchino e mitragliere doppio. Ma è un bel problemone. Allora, tatticamente metto un contenitore vuoto. Sto semplicemente per evitare che il robo scudo possa attaccarmi. E vediamo di passare direttamente a lui il turno. Perfetto. Umaronne ha già schierato un altro robo scudo. E anche un bot esplosivo. Se aspettiamo che scenda, in teoria, possiamo fare forse qualche danno extra. Allora, per adesso prendimi un'altra carta standard. Possiamo mettere un bot energetico. Qui, qui o qua. In ogni caso lui può praticamente farcelo fuori. È un bel problemone. Allora, lo metto per adesso qui. Però non potrò far esplodere questo. Innescherà una gigantesca reazione a catena. E vediamo di ridurre i danni di bot esplosivo. Per adesso, mettendo, a caso mai, un... Ecco, se metto il contenitore vuoto. Vabbè, me la devo rischiare. Metti qua un contenitore vuoto. Pentro breve dovremmo poter utilizzare il nostro robo cecchino. Vediamo un po'. Non dovrebbe accadere praticamente nulla. Gli ha sparato! E mi ha fatto fuori il contenitore vuoto. Piccolo pezzo di erba. Così facendo, mi ha fatto effettivamente dei danni. Quanta energia abbiamo? Volevo vedere l'energia. Gioco, non mi fai fare nulla per adesso. Uh, ne abbiamo un sacco. Quindi prendiamo il robo cecchino. E per adesso lo mettiamo qua in angolo. È una tattica rischiosa, purtroppo. Perché in qualunque punto lo possono praticamente attaccare quel povero Cristo di robot. E mettiamo comunque un contenitore qui in modo tale da parare. Perfetto. Allora, se attacco qui, facciamo esplodere il suo bot esplosivo che farà esplodere il mio contenitore vuoto. Innescando praticamente una reazione a catena non da poco. E il suo robo scudo dovrebbe parare, tuttavia. Il danno lì c'è poco da fare, vediamo un po'. E... Oh! Oh! Mi ha fatto fuori anche il bot energetico, il bastardo. Dannazione! Oh, non promette bene. Decisamente non promette bene. Mi serve un altro po' di energia quanto prima. Tuttavia abbiamo un bel robo scudo che possiamo invece mettere davanti al suo bot esplosivo. Perfetto. Ok. E per adesso non possiamo fare altro. Passo la mano. Perfetto. Oh, ha funzionato. Ottimo. Subiamo anche noi uno di danno. Sto rischiando veramente un sacco. Mi serve... Vediamo un po' che altra carta abbiamo. Robocecchino. Ciao, piccolo stellino. Allora, mi giocherei casomai il mitragliere doppio e lo schieriamo direttamente qua. Perfetto. Così fa fuori il robo scudo e gli facciamo anche un po' di danno. Qui intanto ha schierato un altro robo scudo. Maledetto rompiscatole. Mentre invece io posso prendere una carta standard con contenitore vuoto. Mi arrendo. Andiamo avanti. No, no, no. Col cocchio. Io voglio il danno extra. E mi metti il robo cecchino direttamente qua. Perfetto. Contenitore vuoto per parare eventualmente i danni. Robo cecchino spara a robo scudo che ovviamente non subisce danni. Metti il contenitore vuoto qui. Perfetto. Passiamo il turno. Robo cecchino fa fuori questo. E mitragliere doppio fa danni extra. Ottenendo altri 3 dollari. Perfetto. Ok, sto cominciando a capire un po' le dinamiche. Ma è complesso sto cocchio di gioco. Ok, diamo un'occhiata che non ci siano altri punti furbini. Possiamo ottenere una nuova carta. Il segugio metallico. Il minatore. Oh, il drone sentinella sembra essere interessante. Segugio metallico è molto interessante ma richiederà una barra completa di energia. La sua abilità la conosciamo molto bene, ovvero guardiano. Quando una creatura avversaria viene posizionata di fronte a uno spazio vuoto, una carta che possiede questo sigillo si sposta in quello spazio vuoto e quindi ne subirà eventualmente i danni o farà eventuali danni. Non mi piacciono le carte che si muovono. Il drone sentinella invece è molto carino perché quando una creatura si sposta nello spazio di fronte a una carta che possiede questo sigillo subisce un danno. Lui spara in automatico. Quindi quando il nostro avversario si muove... Ok, perfetto. Carta selezionata. Come abbiamo detto non ci sono altre zone furbine. Mi stai chiedendo quale sia il modo migliore per contrastare quei bot ribelli. Modificare i tuoi. Dagli delle abilità OP. Ok, tutto molto interessante. Cosa abbiamo trovato peraltro? Oh, buongiorno. Scegli una carta dal tuo mazzo. Allora, non mi dispiacerebbe potenziare Robo Cecchino proprio perché è una carta utilissima per quanto molto debole. Vediamo un po'. Possiamo selezionare noi quale potere dargli? Ah, danno riflesso, non aiuta e guardiano nemmeno perché deve stare il più lontano possibile dalle altre carte. Tuttavia l'abilità guardiano è utile per il drone sentinella che attacca in automatico. Oh, molto interessante. Non vorrei dire una boiata ma a mio avviso potrebbe essere una cosa veramente molto utile. Vediamo un po'. Et voilà! Soddisfatto. Credo di sì, in effetti. Come ho detto sperando di non aver fatto una boiata delle mie. Ok, vediamo di proseguire. Qua non c'è nulla. Ci manca poco per arrivare alla tappa. Non ciccare proprio adesso. Cortesemente non porti sfiga. Ok, ci aspetta un'altra battaglia. Oh, gente! Vi dirò questo nuovo atto mi sta intrigando parecchio. Et voilà! Perfetto, speriamo di aver fatto la scelta giusta. Cosa sta accadendo? Oh, abbiamo quindi solo tre colonne questa volta? Sì, in effetti. Dato che stiamo combattendo su un ponte, due zone sono completamente isolate. Lui ha robosveglia. Ciccio, sei sicuro? Ah, ok. Aspetta un attimo. Ora che abbiamo effettivamente due colonne in meno, ottenere il massimo dell'energia potrebbe essere molto più difficile. Quindi dobbiamo assolutamente mettere un bot energetico. Ah, non posso metterlo! Che sfiga assurda! Però il drone sentinella potrebbe automaticamente far fuori la robosveglia. Credo. Ok, facciamo una prova? Casomai ricominciamo in qualunque momento. E per adesso dobbiamo passare il turno. Vai così. E gli abbiamo sparato. Perfetto, che cosa buona e tanto giusta. Anghingo! Cosa facciamo? Per adesso premi una carta normale. Roboscudo. Non è stata la migliore delle mie idee. Per adesso, casomai, mettiamo il bot energetico invece da quest'altra parte. Così abbiamo energia extra. E dopo potremo schierare eventualmente il nostro robocecchino. Vai, passiamo il turno. Sta per arrivare un automa. Oh, dannazione. Se metto adesso il robocecchino, rischiamo che venga danneggiato in automatico. In teoria il drone sentinella dovrebbe spostarsi davanti a lui e sparargli in automatico. Vediamo se lo fa prima o dopo. Allora me la rischio. E per adesso prendo una carta contenitore vuoto. Come ho detto, voglio rischiare per vedere come funziona il tutto. Lui si sposta. Gli spara. Prima che lui riesca a spararci. Ok, 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 ottimo, ottimo, ottimo. La tattica sta funzionando anche troppo bene. Ok, prendiamo un altro contenitore vuoto in caso di necessità. Mettimi... Cos'è che ha messo? Aspetta, 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 un secondo. Robo baratto. Che abilità! Barattatore. Dopo che una carta che possiede questo sigillo subisce danni, scambia la sua salute con la potenza. Molto, ma molto male. Quindi se gli facciamo uno di danno, quattro diventerà la potenza, ma uno la salute. Ok... Non mi piace proprio per niente. Il problema è che adesso mi danneggerà. Robocecchino, dannazione. Allora, per adesso peschiamo... Ok, mitragliere doppio. Mi piace pop, una cifra, dannazione. Purtroppo per me devo passare il turno. Attacchiamo con Robocecchino e tanti saluti. Li facciamo uno di danno, ma lui ci ammazza Robocecchino. Bastardo! Ok, recuperiamo anche l'ultima carta che era effettivamente un altro Robocecchino. Voglio mettere Robo Scudo in modo tale che annulli effettivamente il primo danno che lui gli farà. Vediamo un po' se come tattica potrebbe riuscire a funzionare. Vediamo un po'. Perfetto, quindi i due parametri si sono invertiti. Ok, e il danno è stato completamente annullato per adesso. Allora, pescami una carta extra. Facciamo casomai fuori il drone sentinella. E può sembrare una follia, ma questo mi permette di schierare il mitragliere doppio che fa due di danno. Perfetto, così dovrebbe far fuori il drone nemico e fare un po' di danno extra. Perfetto. Oh! Il danno arriva sempre dietro. Perfetto. E quindi ci siamo vinti lo scontro. Quindi certe cose sono rimaste invariate. Hai raggiunto la prima tappa. Fico. Ok. Quindi questo è un checkpoint. I tuoi oggetti sono ricaricati. I bot distrutti nell'area resteranno tali se e quando perirai verrai riportato qui. È un sistema elegante. In effetti lo è. Vediamo di recuperare un po' di denaro extra. Che cosa buona e tanto giusta. Non sembra che ci siano vie nascoste laterali. Peraltro sembra che io possa cliccare su questa strana torre. Vediamo un po'. Questo ci permetterà di teletrasportarci da una zona all'altra della mappa. Io la butto là. Ancora non mi posso alzare, vero? No, sono molto ma molto bloccato. Quindi dobbiamo procedere verso la prossima zona. Oh marone, qua c'è del denaro. Aspetta, controlliamo anche eventuali zone extra. C'è uno strano oggetto con cui non posso interagire. Ammetto il denaro. Un po' mi intriga, vediamo un po'. Glorioso commercio. Qui le tue robomonete vengono accettate. E possiamo decidere cosa comprare. Ah no, aspetta, sono diversi servizi. Questo è quello ad esempio che ci permette di potenziare le nostre carte. Questo ci permette di ottenere nuove carte. Allora, la mia politica è molto semplice. Inutile avere 3 milioni di carte. È meglio averne poche, ma molto potenti. Quindi direi di spendere 10 robomonete. Vediamo un po'. Ok. E scegliamo la carta da potenziare. Cerchiamo di scoprire se ci sia un'abilità utile per il nostro amichevole robocecchino. Ti prego, lasciami calibrare. Oh, robocecchino diventa praticamente mortale. Che cosa buona e tanto giusta. Oppure guardiano. Oppure più uno di energia. Oddio, un cecchino che uccide letteralmente chiunque. E va che non è una cosa da poco, in effetti, eh. E altresì vero che la suddettabilità sarebbe utile. Anche con il nostro mitragliere doppio. Ma ci vuole troppa energia per riuscire a schierarlo. Immaginate il drone sentinella che si sposta e ti uccide all'istante. Tuttavia se la assegniamo a robocecchino è altresì vero che posso decidere io a chi sparare. E quindi decido io a chi one-shotare. Ok. Ok. Vado a tentoni gente. Siate magnanimi. E decidiamo di assegnarli. Pertanto questa nuova caratteristica va benissimo, buon uomo. Tuttavia abbiamo finito il denaro. Ci serviranno altre otto robomonete se voglio ottenere una nuova carta. Signori, ammetto un plauso allo sviluppatore che è riuscito di nuovo ad innovare un gioco che già mi stupiva tantissimo. Ok. Non ci sono zone extra. Mi sa che stiamo andando in direzione corretta. Botopia orientale. Non ci sono molte cose di valore da queste parti. Ok. Direi comunque di dare un'occhiata. Ma devi comunque esplorare i dintorni. Sai. Per la grande trascendenza. Oh no. Ci aspetta una boss battle. E c'è anche una zona extra. Con nulla di che. Un altro accesso da questa parte. Sembra tutto tranquillo ancora una volta. Aspetta un attimo. Mi sa che abbiamo aggirato la boss battle. Io la butto là. Vediamo un po'. Oh. Abbiamo effettivamente trovato anche una zona con carte extra. Perfetto. Abbiamo un bot energetico. Una robo ameba. E un insetto drone. Uh. L'insetto drone che attacca direttamente volando. Non è male. Cosa fa la robo ameba? Informe. Quando peschi una carta che possiede questo sigillo. Questo sigillo viene sostituito con un altro sigillo. Casuale. Però potrebbe essere una boiata di proporzioni bibliche. Devo dire che le carte volanti mi hanno servito fedelmente in passato. Per adesso. Vediamo di portarcela via. Posso di nuovo modificare il mazzo? No. Gioco dice no. Quindi te la prendi in quel posto. Dove poi sono finito peraltro. Ah. Vedete che effettivamente avevo girato attorno. Ok. Bando alle ciance. Direi di iniziare il prossimo scontro. Sperando che ci giochino delle buone carte. Abbiamo due robo cecchini fin dall'inizio. Un contenitore vuoto e un bot energetico. Uh. C'è un bot rotto. Se gli spariamo con fucile da cecchino. Faremo fuori eventuali carte. E lui ha un minatore che si sposterà ovviamente sul campo di battaglia. Allora. Per adesso piazza un contenitore vuoto. A voler parare il primo attacco del nostro avversario. Ok. Passiamo la mano. Oh no. Ha già mandato quel... Come cavolo si chiama? Robo baratto. Maledetto. Rompiscatole. Allora. Vediamo di prendere una carta normale. Abbiamo robo scudo. Che cosa buona tanto giusta. E appena possibile ci giochiamo. Robo cecchino. Allora. Mettiamo un bot energetico. Casomai qua sotto. Così vediamo se fanno esplodere loro direttamente la suddetta carta. No. Aspetta. Non possono farlo. Però lo perderò io qualora attaccassi il nostro avversario. E per adesso passiamo il turno. Purtroppo subiremo dei danni. Ma c'è poco da fare. Bastardo. Se qui sotto c'è Robo Sentinella io sono praticamente a posto. No. L'insetto drone. Dannazione. Non mi serve l'insetto drone. Allora. Dobbiamo cercare di evitare che ci attacchino. Aspetta. Robot saltellante non può fare danni. Pertanto se Robo Cecchino. Quello ovviamente letale. Lo mettiamo qua sotto. Siamo a cavallo. Che cosa buona è tanto giusta. E gli facciamo attaccare quel cocchio di minatore. Non posso fare molto altro al momento. Quindi comunque subiremo dei danni. C'è poco da fare. Robo Cecchino. Farmi fuori il minatore. Ottimo. Aia. Spuriamo. Aia. Tanti danni. Stiamo rischiando un cifrone. Ok. Peschiamo un'altra carta dal mazzo. Il drone sentinella. Buongiorno signore. Ah. Questo ci avrebbe fatto comodo alla mano precedente. Allora. Mettiamo un Robo Scudo. Casomai. I davanti. Perfetto. Abbiamo un altro minatore rompiscatole. E non posso giocarmi molte altre carte. Come detto il drone sentinella serve solo quando il nemico sta per attaccare. Se hai già attaccato. Sei praticamente fregato. Lo devo comunque giocare perché altrimenti rischiamo di subire troppi danni. Ok. Vediamo un po'. Passiamo la mano. Uh. Taticone della vita. Faccio fuori il Robo Baratto. Così lui invertirà i numeri. Robo Scudo poi lo dovrebbe danneggiare. Vai. Vediamo un po'. Oh. Ha funzionato anche meglio del previsto. Perfetto. Aia. Anche noi subiamo uno di danno. Siamo molto a rischio in questo preciso momento. Però finalmente è arrivato il mitragliere doppio che possiamo vedere di schierare direttamente. Ui. Ottimo. Con il Robo Cecchino posso far fuori l'Automa. E purtroppo abbiamo finito tutta l'energia. Lui peraltro ha... Oh. Di nuovo quel cocchio di Robo Baratto. Allora. Passiamo il turno. Facciamo fuori come dicevamo questo maledettissimo Automa. Perfetto. Ottimo. Oh. La bilancia è di nuovo al centro. Che cosa buona. È tanto giusta. Ah. Per adesso recuperiamo intanto una carta standard. Mettiamo un Robo Cecchino direttamente qua in parte. Perfetto. E passiamo la mano. Allora. Robo Cecchino. Fammi fuori Robo Baratto. Che dovremmo one shotare. Perfetto. E con l'altro Robo Cecchino facciamo fuori... Beh non ha senso far fuori sto Robo Saltellante. Spariamo direttamente al nostro avversario. E... Voila. Ah. Ho solo un danno extra purtroppo. Ok. Datemi un secondo come ho detto che in grano. Ti stai chiedendo cos'è quella stella. Stai vincendo un sacco. Ora hai una stella sulla testa. Attirerà di certo dei cacciatori di taglie. Ma quando muori si resetta. Ci sono anche i cacciatori di taglie. Gioco non mi fai già tirare abbastanza porchi. Non serviva aggiungere altre meccaniche bastarde. Ok. Cerchiamo di avanzare. Uh. Un'altra battaglia qui. Stiamo a recuperare eventualmente una carta extra. Vediamo un po'. Un altro bot energetico. Per energia extra non sarebbe male. Oppure un altro Robo Scudo che ci protegge dai danni. Uh. Vai di Robo Scudo. Ok. Mi sembra la tattica migliore. Perfetto. E procediamo verso il prossimo scontro. Vediamo un po'. Oh no. Siamo sul ponte dannazione. Allora il nostro avversario ha schierato una Robo Sveglia. che era elettrificata anche prima. È una mia impressione. Uh. Forse non ci ho mai fatto caso io. Pertanto vediamo di mettere un contenitore vuoto per cercare di fermare Robo Sveglia. E passiamo la mano al nostro avversario. Ok. Nel frattempo ha schierato anche un bot esplosivo. Perché ti deve stracciare gli Zebedei. Allora per adesso recuperiamo. Ah no no. Praticamente carte con cui far danni. Ti prego. Dammi un cecchino. Robo cecchino. Ottimo della serie. Meglio che nulla. Tuttavia dobbiamo ridurre i danni di Robo Sveglia. Sacrificando il nostro bot energetico. Altrimenti ci fa uno spropoito di danni. Aspetta. Bot energetico poteva sparare. Non mi ero accorto. Oddio che succede. Il mio nome è Grilletto. Grilletto. Complimenti. Ho la vaga impressione che lei sia il primo cacciatore d'Italia. Buon uomo. Ah scusi. Voglio dire buon robot. E sto per prendermi il tuo scalpo. Nulla di personale ragazzino. Ah quindi è un indiano. Ok. Oh marone. Ahia. Mi hanno anche sparato nel frattempo. Quindi ti entrano improvvisamente all'interno di una battaglia. E lui ha l'abilità sentinella. Quindi se gli si para qualcuno davanti gli spara in automatico. E poi ha barattatore. Quindi invertirà praticamente il suo danno con la sua potenza. Oh. Avessimo avuto il cecchino ci saremmo divertiti veramente un sacco. Allora peschiamo una carta standard. Perfetto. Mettiamo quindi casomai il robo scudo che invertirà i suoi parametri. E mi sembra la scelta migliore. Ora facciamolo avanzare. Perfetto. Vai così. Ottimo. Subiremo purtroppo dei danni. È inevitabile. Vediamo di recuperare una carta dal nostro mazzo che è insetto drone. Molto ma molto bene. Tuttavia devo sacrificare il robo cecchino in modo tale da danneggiare grilletto grilletto. Così invertirà i suoi parametri. E il robo scudo dovrebbe eliminarlo. Vediamo un po' se la tattica funziona. Vai. Robo scudo fallo fuori. Perfetto. Prenderò quello scalpo ma non oggi. Non è l'ultima volta che incontrerai grilletto grilletto. Scusi non poteva scegliersi un nome migliore? Addio robo cecchino ci hai servito fedelmente. Nel frattempo sta arrivando un robo baratto. Maledetti rompi scatole. Datemi 5 secondi di pausa. Allora abbiamo... Oh il drone sentinella piccolo stellino. Ok devo distruggere purtroppo la carta bot energetico. Mi dispiace piccolo stellino. E possiamo mettere quindi un... Aspetta un secondo. Voglio mettere un contenitore vuoto qui ma è stupido. A sto punto metto un mitragliere doppio. Così facciamo fuori quel bot esplosivo. E facciamo anche uno di danno al nostro avversario. Ole. Oh! Ha fatto esplodere una parte del ponte. Questa non me l'aspettavo. Mi hanno fatto fuori il robo scudo. Ma non ci sono troppi problemi. Dimmi che sei il cecchino. Ah robo scudo. Dannazione si sempre qua rompere le scatole. Allora ti rimettiamo direttamente qua. Così mitragliere doppio gli spara una volta. Questi parametri si invertono. E robo scudo poi lo danneggia. O l'inverso. A seconda dei casi. E mettiamo casomai. L'insetto drone che può attaccare direttamente il nostro avversario. Vai. Ok ottimo. E invertito. Sparato. E voilà. Battaglia vinta. Che cosa buona. E tanto giusta. Ok abbiamo già sconfitto il primo cacciatore di taglie. E raggiunto. Un altro checkpoint. Oggetti carichi al 100%. Generatori di bot offline al 100%. Iiii cosa sta accadendo. Buongiorno. Che palla. Non c'è più carica in questo vecchio arnese. Ti faccio salire se vai a prendermi una nuova batteria. Ok grazie molto gentile. Oh mi sono liberato finalmente. Incredibile ma vero. Ti è concesso entrare solo nella sala di verifica. Prendi la batteria dal verificatore e torna indietro. Aspetta. Guardate bene la zona. Questa è effettivamente la fabbrica di P03. In cui siamo già stati. Solo che all'epoca era un ambiente in 2D. Se vi ricordate dovevamo risolvere degli enigmi. In modo tale da recuperare gli oggetti contenuti al suo interno. Aspetta aspetta che posso vedere. P03. Ciao stellino. Ciao ermellino. Come stai? Eri anche la mia carta preferita? Ti dovresti vergognare perché ti avevo potenziato veramente un sacco. Oh maronne. È tutto molto scuro e inquietante in effetti. Abbiamo anche diversi computer. Ho paura a toccare. Uh. Qui c'è una carta furbina in effetti. Che poi non ho capito. Ma tutti gli altri scribi sono stati praticamente cancellati. Ora che P03 ha preso il controllo del gioco. Mi domando effettivamente dove siano finiti. Uh. Voglio dare un'occhiata a quanto prima. Allora intanto vediamo di risolvere questi puzzle. Come al solito dobbiamo fare cinque. Quindi questi non li possiamo muovere. Neanche questi. Come no? Questo va alzato. Ah ecco. Altrimenti non mi tornava. Ok. Ora ha più senso. E dovremmo aver fatto tutto giusto. Perfetto. E all'interno abbiamo trovato un oggetto strano. Il detonatore della signora bomba. Certo. Prendilo. Fa cadere delle bombe su ogni spazio vuoto. Svuotamento tattico della tavola. Non sprecarlo. Oh. Oh mio Dio. Ci permette praticamente di liberare tutto lo spazio sul tavolo in un'unica volta. Uccidendo qualunque carta. Quindi è un oggetto che è stato aggiunto effettivamente al nostro tavolo. Non guardarmi in questo modo. Sei tu che l'hai lasciato qua. Non è colpa mia. Mentre invece da... Oh maronne. Ah no. Aspetta. Questi vanno messi così. Questi dobbiamo spostarli. Eccola. E 5, 3, 2. Ba 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 ba. Ok. Perfetto. E all'interno abbiamo trovato il Magobot solitario. Ehi. Ehi. Chi sei? Io sono stimoli. Qualcosa di diverso dall'oscurità? Grazie mille. Puoi fare di me ciò che vuoi. Mi basta non ritornare a quell'oscurità infinita. Oh. Era tanto che una carta non mi parlava. Detto così suona male. So che sembro fuori di testa ciccio. Non giudicarmi. Quindi dammi un secondo. Ah sì. Code scarico. Volevo vedere effettivamente. Guardalo. È tutto spaventato. È tutto completamente svarionato. La sua unica abilità è Sanguisuga. Quando una delle tue creature si trova in uno spazio. Una carta che possiede questo sigillo. Si sposta il più possibile vicino a essa. Ah. Si sente solo poverino. Ma no. Non è che tu sia una carta molto utile Magobot solitario. Non me l'aspettavo. Mi ha completamente spiazzato. Oh. Le ho lasciate spente. Fa lo stesso. Basta che risolvi qualche semplice rompicapo. Sì sì. È la stessa identica stanza con i nati traportatori. E qua c'era un ponte. Che ci avrebbe consentito il passaggio. Qualora avessimo attivato i vari computer. Mi stai spiando? La cosa mi inquieta proprio un cifrone. Seleziona tutti i riquadri che contengono delle carte. No. Fammi capire bene. Hai creato dei capsca per davvero. Ma cos'è sta storia? Allora. Questi sono spazi vuoti. Quindi questi due contengono le carte. Questa è una carta. Questa è una carta. Questa è questa pure. Ok. A posto. Primo riattivato. Ora andiamo da quest'altra parte. Ruota il sigillo finché non si trova in posizione verticale. Ah. È quello della nostra sentinella. Ok. Questo è quello del danno riflesso. E buongiorno. Questo non lo conosco. Che ne so. Forse va verso l'alto. Ok. Andava verso l'alto. E che cocchio. Non è che li posso conoscere a priori. Ottimo. Ora possiamo interagire con questo. E prendiamo la batteria. Oh. All'occorrenza la possiamo anche rimettere. In effetti alimenta il macchinario. Vediamo un po'. Questa porta purtroppo è chiusa. E all'interno abbiamo trovato Robo Pesce. Buongiorno. Ehi. Mi hai trovato. Bene. Pesce Robot. Nascondimi. Vendetta per l'ultima volta. Ok. Pesce cattivo. Ah ma è lui. Ho fatto la voce sbagliata. L'ho riconosciuto solo dopo. Salve signore. Buongiorno. Che succede? Lo possiamo ruotare all'occorrenza? In che modo mi aiuta? Vabbè. Poco male. Intanto vediamo di recuperare. Staccocchio di batteria. La vuole lei la batteria signore? No. Non mi pare che gradisca la 220 al momento. Già. Proprio così. Portala da me. Ok. Un attimo arrivo. E che un po'. È buio porco cane. Non ci vede niente. P03. Hai pagato la bolletta della luce. Ad ogni modo. Gente. Io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Mi sto gasando pop un cifrone che non ci avete idea. Questa nuova modalità è wow. Che bello essere ritornato effettivamente in un mondo 3D. Nei commenti fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace. Altrimenti diventerete un robot cattivo come P03. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.